Bella ragazzi, qua è ghiotto, altro giorno, altro colpo di mercato, punto interrogativo, perché io sto registrando al mattino, poco prima di mezzogiorno, il video lo state vedendo mentre state mangiando, vi ho scoperto. Comunque, Mattia Svesino, notizia poi di ieri sera, quasi nella notte, l'uruguaggio ex Inter, svincolatosi appunto dalla bene amata classe 91, sembra in procinto di prendere la via della capitale, ovviamente sponda bianco celeste. A me, Vessino, partiamo subito forte in questo video, un giocatore che mi ha sempre gasato, mi è sempre piaciuto, certo sì, magari posso dire, non mi stava simpaticissimo, magari adesso ormai è una cosa passata, perché nel 2017-18, sì lo so, vi sto ricordando una brutta cosa, però fu forse la sconfitta più coccente della mia esperienza da Laziale, e col suo gol ci condannò al quinto posto, mentre l'Inter di Spalletti salì al quarto posto, però vabbè non è che è colpa di Vessino, Giovesino ha fatto un gran colpo di testa e noi ci siamo suicidati, mi ricordo, perché secondo me eravamo, almeno avevamo giocato meglio rispetto all'Inter, non so se eravamo superiori, però avevamo giocato meglio, lui ci si fece spellere, go sbagliati, mille cose, vabbè comunque quella è acqua passata. Vessino penso che sia un giocatore che possa dare tanto alla Lazio, ci sono molte riserve su di lui tra i tifosi, però io invece penso che sia un giocatore, sì, 91-31 anni, però l'età, questo è un discorso anche per Marsello, perché adesso ci arriveremo, ragazzi dovete capire che è relativa l'età, C'è inutile che quando mi parlate di un giocatore mi fate un esempio e mi dite, ma guarda Ibra 40, ma ogni giocatore è diverso, chiaro, ci sono vieri, vieri, citiamo forse il miglior Bonweb nella storia dell'Italia, forse, non lo so, molti dicono così, non sono d'accordo io, A 32-33 anni era scopiato, chiaro, e invece ci sono giocatori come Ibra Iovic che hanno dato il meglio di sé dopo i 30 anni, chiaro, quindi Vessino è un giocatore di 31 anni, lui arrivò in Italia vestendo la madre della Fiorentina, passò al Cagliari, all'Empoli di Sarri, quindi un giocatore che piace, secondo me è Maurizio Sarri, si affermò poi nuovamente alla Fiorentina e poi all'Inter ha fatto bene, adesso ha due anni che gioca un po' meno, soprattutto l'anno scorso, perché era anche in scadenza, quindi si sapeva andasse via, non è stato inserito tanto nelle rotazioni di Inzaghi, per me sbagliando, perché Vessino era un giocatore rispetto ad altri della Rosa e l'Inter che poteva dare qualcosa, però non è un giocatore spremuto, Vessino, grossi problemi fisici non ha mai avuti, può dare ancora tanto, secondo me, a grande fisicità, a grande peso specifico, ricordo anche partite europee dell'Inter, mi ricordo quando forse l'Inter di Conte persa al Camp Nou 2-1, no, vi ricorderete, però Vessino fece una gran partita, c'è un giocatore di peso che si fa sentire, a me piace, c'è una mezzala non tanto di quantità, però di inserimento, è chiaro che abbina anche una buona tecnica e a noi, secondo me, manca una mezzala di inserimento, perché molti dicono, non aggiunge tanto alla Rosa, non sono d'accordo, francamente, è chiaro, poi, arriva a 0, sì, dovrei pagargli uno stipendio, si aggira su 1,9-2, la richiesta era 2,5, quelli che guadagnava Milano, ma sono troppi, allora no, non sarei d'accordo neanche io, perché poi non è un giocatore vendibile dopo, difficilmente sarà vendibile, però un triennale, a 1,8-1,9, francamente, ci sta, Vessino, comunque, un giocatore di una certa carattura, è chiaro, quindi, secondo me, aggiungi alla Rosa, perché tu una mezzala di inserimento, non ce l'hai, Sì, forse Basic, ma relativamente, è chiaro, Luis Alberto non lo è, e a parte che dovrebbe andare via, Savic, sì, vabbè, Savic lo è anche, però non è che può inserirsi sempre solo Savic, è chiaro, non lo è Kine, se rimarrà, ma dovrebbe andare via, non lo è neanche Papro, che non ha manco la fisicità, quindi, voglio dire, non lo è Cataldi e non lo è Antonio, nel caso, quindi, per me, da fisicità, da centimetri, da inserimenti, che alla Lazio mancano, perché la Lazio è una squadra poco fisica, è chiaro, quindi, Per me, ci sta, io lo approverei, questo acquisto, dicono che entro tre giorni si può chiudere, quindi, per me, approvato. Ah, ragazzi, mi raccomando, like al video, iscrivetevi e seguitemi, eh, Instagram e TikTok, su TikTok sto portando una serie sul Fanta Calcio ogni giorno, vi consiglio dei nomi, dividendoli in categorie, quindi, mi raccomando, seguitemi anche lì. Poi, di Marcello parliamo alla fine, allora, si è conclusa la prima fase della campagna abbonamenti della Lazio, dedicata, però, agli ex abbonati dell'ultima stagione in cui erano disponibili gli abbonamenti. Parliamo della 19-20, quindi 11.200 abbonati, che sono numeri, partendo dal presupposto che la vendita libera ancora deve partire, che partirà adesso, sono numeri discreti, non esaltanti, e è chiaro che io spero che, non so, si possa arrivare a 20.000 abbonati, perché comunque la società, bisogna dirlo, quest'anno non si sta muovendo male, ma ribadisco, i giudizi io li do alla fine, però, parliamoci chiaro, la società non si sta muovendo male, è chiaro. Poi, c'è bisogno ancora di fare qualcosa per poter ambire concretamente al quarto posto, perché quest'anno l'obiettivo dichiarato, l'ha detto anche Patrick, lo dico io, non mi voglio nascondere, è quarto. Poi, magari non ci arriverai, però io voglio lottare fino alla fine per il quarto posto, e questa rosa è discreta, forse migliorata, forse, rispetto all'anno scorso, però, poi se perderai Luis Alberto, eccetera, occorrerà fare ancora qualcosa. Poi, per quanto riguarda le cessioni, Murici, anche lui in procinto di andare al Mallorca, di tornare all'Iberostare Stadi, delle Baleari, appunto, dove si è ben disimpegnato negli ultimi sei mesi, ha conquistato la salvezza, è un affare, addirittura, d'arrivo, la Lazio dovrebbe incassare circa 10 milioni, tra parte fissa e bonus, che sono ottimi. Quindi questa è una bella operazione in uscita, meno male che anche in uscita, forse quest'anno, stiamo operando discretamente. C'è il problema a Cervi, ragazzi, io qua ve lo dico da giugno, il giocatore per me, se si muoverà, se qualcuno lo vorrà, perché è un giocatore vecchio, che percepisce tanto di ingaggio, è che tu lo devi pagare il cartellino, perché ha un contratto fino al 2025. Quindi, come vi ho sempre detto, se si muoverà, usiamo il condizionale, lo farà ad agosto. Anche il Torino, sì, ha fatto degli ammicamenti, ma non puoi sostituire Bremer con a Cervi, sono un giocatore che ha caratteristiche completamente diverse, se vogliamo. Sì, a Cervi è bravo a tre, quello è vero, ma infatti prende De Nair, il Torino, che l'avrei preso anch'io, anche se forse nell'ultimo anno ha avuto un po' qualche problema fisico. De Nair, però, me lo ricordo, Galatasaray, Lione, secondo me è un gran giocatore, anche sottovalutato, fece una grande Champions l'anno del Covid, proprio con la maglia dell'Olympique. Quindi, vedete Cervi, dove va? Non lo so, quindi blocca anche un po', tra virgolette, il mercato. E poi ci sono i vari, Johnny, Ascalante, quella gente lì, Durmisi, Fares, Johnny, il Gion, so che è molto interessato, è fortemente interessato a lui, speriamo si possa chiudere per liberarsi anche di ingaggi, comunque, relativamente pesanti. Poi, vabbè, di Mertens non si dice nulla, io ve l'ho detto che sono abbastanza freddo su Mertens, per quanto riguarda la riuscita della trattativa, però, vediamo. Però, ecco, Mertens, Vecino, e poi si parla ancora di Marsello, allora io vi chiedo, dov'è il progetto giovani? Cioè, va bene, allora, se arriva Vecino, 91, ci sta benissimo, arriva Marsello, colpo mediatico di marketing, lo approvo anche, però allora non può arrivare anche Mertens. Perché tu hai ringiovanito la rosa, la rinvecchi, perché vai a prendere due giocatori, parliamoci chiaro, a fine carriera, 34-35 anni, e Marsello è logo, fisicamente, è chiaro. E, vabbè, Vecino, che 31 anni ci sta, non è che sei a fine carriera, però non sei più vendibile, non sei più futuribile, non è un acquisto lungimirante, è chiaro. Parliamo di Marsello. Allora, ho visto, ieri vi siete scatenati nel video di ieri sera, però, ribadisco, avete fatto dei paragoni che non c'entrano nulla. Mi hai detto, eh, ma allora, uno mi ha detto, eh, ma allora guarda Modric, guarda Ronaldo, guarda quello là. Sì, benissimo, ma ripeto, è relativa l'età, ogni giocatore è diverso. Marsello giocava, ha giocato per anni in un Real Madrid che ti logora psicologicamente, fisicamente, ha vinto tutto e di più il giocatore del Real più vincente della storia, ma sono tre anni che gioca col contagocce. Non sei mesi che non gioca, sono tre anni che gioca col contagocce. E Mendy, non è un fenomeno, è Mendy, è bravo, Mendy è un buon terzimo, non è un fenomeno. Io vi sono tre anni che fa 20-25 presenze all'anno, quest'anno proprio pochissimo da titolare, praticamente due o tre volte. È chiaro, in un Real comunque che girava bene, che ha vinto tutto, possiamo dire. Quindi, punto di vista marketing mediatico, la Lazio avrebbe bisogno di un acquisto così. Dal punto di vista di campo, saremo stupidi noi, forse, però se lo dico io, sono stupido. Sono folle, uno mi ha scritto, te preferisci far giocare i giovani che Marsello, far crescere i giovani che prendere Marsello. Ebbè, voglio dire a Pedri, Gavi o il Barcellona di Guardiola che ha vinto la Champions con tantissimi giocatori del Vivai. Allora, siamo tutti pazzi, sei te furbo, è chiaro, scusami. Cioè, bisogna sempre, ripeto, contestualizzare, è chiaro. Quindi, saremo stupidi, se lo dico io, sono stupido, però evidentemente anche Sarri mi sembra un po' freddo su Marsello. Perché dice, sì, lui non gli interessa il marketing, dice, Marsello ok, lo conosciamo, però sta bene, cioè, è in grado di giocare. Perché sulla sinistra noi, non è che abbiamo Renan Lodi, allora dice, vai, Marsello viene a fare la reserva di Renan Lodi. No, abbiamo Marusic che non è un mancino, Isai che non è un giocatore di calcio e Radu che il prossimo anno smette che poi non è manco un terzino di ruolo. Quindi, Marsello, colpo mediatico, benissimo. Anche se poi io non lo so quanto lo sapremo sfruttare. Perché se non abbiamo TikTok, YouTube, forse ci stiamo muovendo un pochettino, ma... Cioè, facciamo dei video obbriosi, cioè, ho visto il video della presentazione di Auroncio, sembra che l'ho fatto io col cellulare, con tutto rispetto, è chiaro. E Instagram, sì, mettiamo qualcosina, però ribadisco. Tu, prendi Marsello, ma poi lo devi sfruttare. Non è che prendi Marsello e fai un video su Marsello. Cioè, tu prendi Marsello per un mese, mi devi tartassare di Marsello, eh. E lo dico contro il mio interesse, perché poi a me non è che me ne freghi di vedere un mese il video di Marsello. Ma devi fare così. Devi fare così. Poi, qua, diciamo, tema Serie A, stiamo diventando la MLS europea, ragazzi. Poco da dire. Cioè, Di Maria, 34 anni, cosa fa? Dice che voleva provare l'esperienza in Italia. No, non lo voleva nessuno, è venuta all'Italia. Pogba ha fatto 5 anni, obbriosi a Manchester, a zero, non lo voleva nessuno, viene in Italia. Marsello, 34 anni, viene in Italia. Cioè, capite? Però, vabbè, ragazzi, è così che ci vuoi fare. È la realtà dei fatti. Ho visto i dati, siamo il peggiore, tra i 5 migliori campionati europei, a far giocare i giovani, come dati. Chiaro. Però noi continuiamo a dire, no, ma sei pazzo a far giocare i giovani. Poi la nazionale fa schifo, quello fa schifo, ci lamentiamo. Però, vabbè, vogliamo questi acquisti qua. Quindi, io ribadisco. Contestualizzando la Lazio, Marsello ci può stare. Ti porta anche a un risalto mediatico non da poco. Dal punto di vista del campo, non lo vorrei. Preferirei prendere un terzino, non dico che deve avere 20 anni, però di 25-26 anni, forte. Chiaro. Comunque, questo era il video. Ragazzi, like, iscrivetevi, seguitemi sugli altri social. Bella. Ragazzi, like, iscrivetevi, seguitemi sugli altri social.